Buongiorno a tutti, sono il vostro meteorologo di fiducia e vi aggiorno sulle ultime evoluzioni del tempo. In questo momento, un vortice ciclonico in fase di intensificazione sta interessando le adiacenti isole greche e sta spostando il suo nucleo in direzione ovest, verso il mare Ionio. Se esaminiamo la cartografia meteorologica, possiamo notare un vortice, che si dirige decisamente dal territorio greco verso le acque ioniche. Parallelamente, un'ampia area di alta pressione sta dominando gran parte della penisola italiana, con due massimi di pressione distinti, uno focalizzato sul Regno Unito e l'altro orientato verso la Polonia. Ora, cosa significa tutto questo per il tempo nelle nostre regioni? Dato il posizionamento del vortice, prevediamo un degrado delle condizioni atmosferiche, in particolare nel sud Italia. Nel corso della mattinata, in aggiunta a un rafforzamento generale dei venti, osserveremo un incremento della copertura nuvolosa, che sarà più accentuato nelle zone ioniche come il sud della Puglia, la Basilicata, la Calabria e l'est della Sicilia. È in queste aree che anticipiamo l'arrivo di precipitazioni sparse, che nel pomeriggio potrebbero diventare temporalesche, con un'escalation prevista entro la sera, specialmente nelle zone ioniche della Calabria e nel sud-est della Sicilia. Prima di andare avanti, però, scrivici un bel commento al video. Nel commento puoi scrivere la tua città, e se oggi c'è vento. Un secondo grafico qui sotto mostra le precipitazioni previste per martedì 5 settembre. Si prega di prestare particolare attenzione alle aree colorate in verde e giallo, dove si attendono accumuli variabili dai 15 ai 70 mm di pioggia, equivalenti a 70 litri per metro quadrato. Inoltre, i venti provenienti dai quadranti nordorientali, noti come grecale, porteranno a un significativo aumento dell'agitazione marina. Per quanto riguarda il resto del paese, l'alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili. Le uniche eccezioni saranno una nuvolosità moderata sulle regioni adriatiche centrali e in alcune zone del nord, specialmente nel nord-ovest, senza però impatti significativi sulle condizioni meteorologiche. Ecco quanto per il bollettino meteo di oggi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buona giornata a tutti. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie sul meteo.